Ciao ragazzi bentornati a un nuovo video a tema Genshin Impact oggi. Oggi faremo un piccolo escurso sotto una serie di cose che è bene sapere quando si inizia a giocare e forse se le avessi sapute anch'io quando ho iniziato, dato che purtroppo nessuno me ne ha mai raccontate, avrei risparmiato qualche risorsa che sappiamo che in questo gioco scarseggiano. Quindi in conseguenza ascoltatemi bene se siete dei nuovi giocatori perché vi do qualche tip fondamentale per poter andare al massimo con un ottimo gameplay fin da subito e capire cosa e cosa non fare. Quindi mi raccomando e se invece siete giocatori ormai esperti che giocano da 3, 6 mesi, 1 anno, mi raccomando sfruttate i commenti per dare altri suggerimenti ai nuovi player perché dobbiamo creare un ambiente in cui chi è nuovo si possa sentire accolto e possa anche imparare tante cose su Genshin che è un gioco bellissimo ma estremamente vasto e pieno di meccaniche. Quindi sicuramente nasconde un po' di intoppi e un po' di intrecci. Quindi perché non aiutare chi sta iniziando da poco? Mi raccomando attivi dei commenti, io vi ricordo di iscrivervi al canale, attivate la campanella per sapere quando sono i prossimi video e adesso iniziamo con cosa fare e non fare su Genshin Impact. Consiglio numero 1. Il primo riguarda le resine, le quali servono all'interno del gioco come valuta per droppare le ricompense di domain, boss e world boss, i quali droppano a loro volta materiali di ascensione dei personaggi, materiali di ascensione delle armi, artefatti e anche materiali per l'ascensione dei talenti. Quindi sono fondamentali per far sì che i vostri personaggi vengano powerappati e potenziati e non solo i personaggi ma anche le stesse armi. Ad ogni modo, cosa voglio dirvi al riguardo? Che le resine si distinguono in resini fragili e in original resins. Qual è la differenza? Una resina fragile corrisponde esattamente ad uno e ve ne serviranno 20 per fare un domain, 40 per fare un boss e 30 per fare un world boss. Se fate più di 3 world boss settimanalmente, il quarto vi costerà 60 resine. Potete capire che hanno un tempo di ricarica molto elevato perché una singola resina fragile ci mette ben 8 minuti a ricaricarsi, il che significa che potrete fare esattamente un domain dopo che saranno passate 20 volte 8 minuti. Fatevi il calcolo e vi renderete conto che di tempo ce ne serve. Di conseguenza esiste anche un'altra tipologia di resine che sono le regine original. Il mio consiglio riguarda proprio queste regine. Quando ve le danno, conservatele perché saranno fondamentali quando sarete più avanti nel gioco per il farming degli artefatti. Quindi utilizzate le resine fragili che sono quelle che vi si ricaricano. 160 è il k massimo che potete avere in contemporanea. Sfruttatele e aspettate che si ricarichino per utilizzarle. Mentre quelle che sono originali non le utilizzate finché non raggiungerete il livello 45. Questo perché? Perché è sopra il livello 45 che si possono droppare gli artefatti dorati più facilmente. E questo fa sì che potrete droppare a quel punto gli artefatti che poi lo interranno permanenti sui vostri personaggi. Quindi se volete buildare i vostri personaggi il mio consiglio è risparmiare le resine per più avanti. Io purtroppo non l'ho fatto e quando ho iniziato a buildare effettivamente i personaggi mi sono trovata lievemente in difficoltà perché mi mancava il materiale fondamentale per il farming. Ed è vero che se ne può ottenere alcune usando un po' di primogens, ma le primogens servono per pullare ragazzi. Se le usiamo anche per ricaricare le resine non finiamo più. Non dico che non vada fatto perché anche io utilizzo sempre 60 primogens per aggiungermi un po' di resine. Però considerando un free to play è tanto meglio se le primogens si le accumula per le pull e quindi è questione di aspettare un livello necessario per droppare gli artefatti corretti per buildare i vostri personaggi. Consiglio numero 2. Il consiglio numero 2 è certamente correlato al numero 1. Come vi dicevo da rank 45 in su potrete sbloccare il livello massimo di difficoltà dei domain e quindi con il livello massimo di difficoltà sbloccherete anche la possibilità di droppare ad ogni run almeno un artefatto dorato. Ed è proprio quell'artefatto dorato che fa la differenza. Di conseguenza io vi consiglio vivamente di aspettare il livello 45 per buildare i vostri personaggi con gli artefatti corretti. Quello che vi consiglio di fare adesso quando siete a un livello sotto il 45, quindi un 30, un 35, un 20, concentratevi sì sul buildarli. Ma in primo luogo concentratevi sulla loro ascensione dei personaggi. Portateli al 40, poi al 60 eccetera eccetera e soprattutto se volete dargli gli artefatti dategli di qualsiasi set, possibilmente quelli che vi droppano i boss che saranno lievemente migliori di quelli che troverete con l'esplorazione o a giro, ma ad ogni modo dategli degli artefatti che abbiano la statistica principale corretta. Per il primo momento concentratevi sulla statistica principale, quindi un Diluc ovviamente in coppa mettetegli un Piro Damage, non mettetegli a caso un Crio Damage o un Hidro Damage, ovviamente a un Diluc. Il G Piro servirà un Piro Damage. Quando poi avrete il livello 45 andrete nel domain apposito che è quello delle Crimson e formerete le Crimson giuste per lui e a quel punto potrete full buildarlo nella maniera che più ritenete corretta. Di conseguenza fondamentale finché non raggiungete il livello 45, ok concentrarsi sull'artefatto, ma non concentratevi sul set corretto utilizzando quindi le resine nei domain, cosa che si ricollega alla regola precedente. È molto importante perché poi quando aggiungerete il famoso livello 45 potrete sfruttare tutte le resine originali che avete usato da parte, che sono nel vostro box, per andare a farmare nei domain gli artefatti corretti, dorati, per i personaggi del vostro team. Quindi in primo luogo concentratevi sull'ascensione dei personaggi e poi sul build degli artefatti, ma utilizzando quelli che in un primo momento trovate nel gioco. Dopodiché vi concentrerete su metterli l'artefatto giusto con la statistica giusta. Consiglio numero 3. Una volta raggiunto il rank 25 sbloccherete la reputazione delle tre regioni per ora in gioco, quindi Monstad, Yue e Inazuma. La reputazione è una graduazione di livello dall'1 all'8, con una ricompensa una volta si raggiunge un livello ed è veramente veramente importante non dimenticarle di fare settimanalmente le tre request e le tre bounty per aumentare la reputazione. Oltre a queste potete fare una serie di world quest che vi serviranno proprio per aumentare la reputazione della vostra regione che state in quel caso portando su di livello. Vi consiglio vivamente di farlo perché le ricompense che vi droppano sono veramente veramente importanti per il gameplay. La prima e direi la più importante è in assoluto le resine condensate. Utilizzando la condensazione delle resine potrete utilizzare un totale di 40 resine fragili, quindi quelle che vi si ricaricano e un crystal core, le farfalline che svolazzano, si consiglia Sayu se volete prenderle più facilmente, per ottenere una resina condensata che potrete usare in un domain e potrete droppare con il doppio del quantitativo, il che significa che invece di fare due run da 20 ne farete una sola da 40 e dropperete la stessa quantità di cose, però in una run sola. Serve per velocizzare il processo. Ad ogni modo, oltre alle condensate ci sono altre ricompense veramente importanti in questo gioco. Ci sono ad esempio i ricercatori di Geoculus e Nemoculus per permettervi di trovare quelli che non avete trovato, ci sono le bussole che servono per trovare le casse sia a Mondstadt che a Lua che non avete trovato e poi vabbè ci sono anche cose estetiche come le ali o anche i portable waypoint. Ce n'è uno solo ed è praticamente un teleport portatile. C'è una zona all'interno di Mondstadt che raggiungete con difficoltà ma che vi è sempre comodo trovare, tipo vicino ad un boss o qualcosa? Ci mettete il vostro portable waypoint e sarà molto utile. Quindi mi raccomando le ricompense si possono sbloccare di settimana in settimana facendo tre request e tre bounty quest. Se volete poi sapere nel dettaglio cosa sono le affronteremo in un video, ma ad ogni modo concentratevi dal livello 25 nel fare settimanalmente ciò che serve per potenziare la reputazione. Non c'è un ordine di preferenza, potete scegliere da quale città partire. Io sono andata in ordine con le regioni Mondstadt, UA e adesso sto facendo o meglio sto finendo Inazuma. Consiglio numero quattro. Ragazzi questo consiglio è importantissimo, soprattutto per tutti quelli che in live mi chiedono sempre, maui ma come si farmano tante Prime Legends? Beh la risposta ve la do adesso, come già vi dico in live la risposta è la parola esplorazione. Ebbene sì, Genshin Impact nasce come un gioco Japan RPG open world ed è proprio la parola open world su cui dovete concentrarvi. Cosa significa? Significa che la mappa è molto estesa, che ci sono foreste, lande, deserte e tanti altri tipi di ambientazioni molto vaste e piene di casse nascoste, trabocchetti, indovinelli, piccoli trucchi e tante altre cose. È un gioco che si basa sull'esplorazione. Non si può giocare a Genshin senza avere una buona dose di avventurieri per esplorare ogni singolo angolo di tutta Teyvat, perché è proprio esplorando Teyvat che sbloccherete tantissime world quest, casse e tante altre cose come semplicemente i waypoint che vi servono proprio per ottenere Prime Legends, fare obiettivi e quindi il mio consiglio per chi inizia poco a giocare, mettetevi in testa che se vedete una mappa grande ogni singolo punto va esplorato per bene e portare a 100% le varie regioni non basta perché ci sono anche cose nascoste che non vengono conteggiate nella percentuale 100% quando finite una sottoregione ad esempio di Mondstadt. Quindi ragazzi, gambe in spalla, piccoli dori agli esploratori, andiamo tutti insieme ad esplorare Teyvat ed è veramente importante ragazzi, perché non c'è niente che vi permette soprattutto del free to play di farmare bene le Prime Legends quanto l'esplorazione, ovviamente sommata agli eventi, ma l'esplorazione è tutto. Consiglio numero 5 e anche ultimo di questo video, se poi ne vorrete altri di video con i consigli per giocare al meglio a Genshin Impact fatemelo sapere nei commenti che ci tengo tanto e mi aiutate anche a capire con un feedback quali video vorreste vedere o meno, quindi mi raccomando fatevi sapere. Ad ogni modo il consiglio numero 5 si basa sui talenti. Questa parola per me sono un incubo, vi spiego, praticamente io per i primi due mesi di gioco non mi ero assolutamente resa conto dell'esistenza dei talenti, il che ha fatto sì che io per i primi due mesi non potenziassi le skill di nessuno dei miei personaggi, invece per un'ottima build e soprattutto per l'utilizzo corretto di un personaggio è fondamentale ascenderne le skill. I talenti sono importantissimi, si trovano all'interno del menu del personaggio e servono proprio per far sì che la vostra skill si potenzi e potenzi i suoi moltiplicatori di danno o di cura in base al tipo di personaggio che stiamo utilizzando. Ad ogni modo mi raccomando ragazzi, può sembrare un consiglio sciocco perché magari tutti i presenti sanno perfettamente che cosa sono e dove si tramano i talenti, ma io ve lo dico perché io in primis e non sono l'unica perché ho anche un'amica che ha fatto lo stesso errore, ci siamo reso conto tardi di questa meccanica dei talenti che in realtà è alla base della build di un personaggio quanto una sua ascensione o un potenziamento di un'arma, quindi mi raccomando ragazzi alzate i talenti dei personaggi utilizzati. Le cose importante è che i talenti sono molto dispendiosi a livello di mora, il che significa che concentratevi sui talenti veramente importanti, non importa portare al massimo tutti e tre i talenti di un personaggio, almeno che non sia il vostro main, ma fatelo con un certo occhio, in base a quale skill effettivamente vi serve sui vari personaggi, anche perché purtroppo la corona, che serve proprio per portare un talento al massimo della sua ascensione, è veramente rara e ce la danno soltanto in alcuni eventi, quindi se avete iniziato da poco probabilmente ne avete una o forse nessuna, quindi quando otterrete una corona non sprecatela, usatela solo su un personaggio e su una skill di quel personaggio che effettivamente utilizzate e vi serve. Questo primo video è su cosa fare obbligatoriamente su Genshin e cosa evitare assolutamente di fare, per adesso finisce qui, adoro questo tipo di guide perché mi permettono veramente di dispensare quella poca conoscenza che ho nel gioco a chi magari ancora non ce l'ha, quindi spero vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un cuoricino o meglio, qui sono pollici, però io continuo a dire cuori perché sono abituata tra Instagram e TikTok con i like, quindi continuerò a dire cuoricino ma voi sapete che è un pollice all'insù comunque se vi va di lasciare un video per farmi sapere che vi è piaciuto. Nei commenti consigliatemi altre cose che vorreste che dicesse in live per dare dei consigli ai ragazzi che hanno iniziato da poco, prenderò le idee più belle che voi mi lasciate e le porterò nel prossimo video di questa serie, spero vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, noi ci vediamo su tutti gli altri social, specialmente su Twitch in live la sera alle 21.15 da lunedì al venerdì e poi anche la domenica, escluso il giovedì e il sabato, ma comunque la schedule la pubblico su community e la pubblico anche su Instagram, quindi vi invito a seguirmi anche lì, anche su TikTok e pure su Twitter perché come vi dicevo, ma voi è come il prezzemolo. Detto questo io vi ringrazio per la compagnia come sempre, grazie per tutto quello che state facendo, sostenendomi anche in questo progetto e noi ci vediamo in un prossimo video a tema Genshin o a tema di un altro gioco di quelli che abbiamo, chissà. Ciao!